Oggi è venerdì, ultimo giorno di allenamento di questa settimana, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia e potete vedere che il terreno di gioco è pieno di ragazzi, delle varie categorie. Oggi si allenano i primi calci di mister Gabriele che lo vediamo là in fondo che è anche il coordinatore tecnico, dopo ci sono gli esordienti di mister Giuseppe, Gian Cristoforo e mister Giordano Simone, qua vedete i ragazzini dei esordienti, qua ci sono i ragazzini di mister Gabriele, i primi calci, mister buongiorno, qua c'è il secondo gruppo di ragazzi sempre i primi calci, qua c'è pure Bartolo e non riesco a capire perché ne va la divisa, si va a Rezzetta, mi pare strano, qua l'ultimo gruppo c'è Giordano Simone, Roberto Verna sempre con i primi calci, qua invece ci sono i ragazzini, sicuramente sono i pulcini, giusto? Con i pulcini questi qua, no? Ah, correggo, sono gli esordienti sempre di mister Giuseppe, ecco il mister Giuseppe lo vediamo con lo smanicato rosso, là in fondo sempre il gruppo di esordienti, a questo lato sempre il gruppo di esordienti, là in fondo ci sono i portieri con mister Aurelio se non erro e questi altri piccoli sono? Ah, i primi calci allora, sì, i primi calci c'è mister Nicola Di Campi, nel frattempo all'interno del pallone si stanno consegnando i kit a queste categorie di ragazzi, c'è proprio il punto distribuzione, ecco vediamo il nostro dirigente, Adriano Gian Cristoforo qua in fondo, tutte le attrezzature, c'è anche le barriere per i calci di punizione, qua c'è il gruppo dei pulcini di Giulio Massimini, ciao mister Giulio, bravi ragazzi, tutti in divisa state nuove, ah bravi, qua abbiamo i nostri portieri con mister Aurelio, postazione di portieri, abbiamo di Bucchianico, c'è Matteo d'Ottavio, mister Aurelio sta qua, bravi, c'è piccolini, c'è anche Daniel Ucci, qua c'è il nostro presidente con il nostro dirigente consigliere Adriano, comincia a fare l'aria freschetta, dai via, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, via, vai, bravo, ecco, gli esercizi disposti da mister Aurelio, forza, dai, più veloce sta palla, dai, più veloce, 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 via, vai, va bene, anche i nostri ragazzini, gruppo di mister Giulio, sono state accese le luci della tribuna, sta facendo un buio, l'aria è frizzante, qua c'è mister Nicola Di Campli, come ho detto si stanno allenando i ragazzi degli esortienti, primi calci, pulcini e portieri, portieri, mancano un paio di portieri più grandicelli, Dinella, dei giovanissimi, manca Johnny Perrucci, manca Cocco Francesco e manca anche Dinella, ovvero mancano quattro portieri, quelli più grandicelli, quello che vediamo che si è tuffato con la maglia Orange, è il portiere titolare degli allievi, Matteo Dottavio. I nostri ragazzi stanno qua, abbiamo fatto questa bella panoramica, si vede questo magnifico mando erboso del nuovo di via Olimpia, riempito di ragazzini, i nostri tesserati, fra poco lo vedremo, sicuramente dal prossimo allenamento saranno tutti vestiti uguali, in quanto si sta consegnando a queste categorie che ho nominato i kit che sono arrivati, per questa stagione 2017-2018 i nostri tesserati indosseranno il marchio Zeus. sempre qua il nostro mister Aurelio, bella panoramica.